Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video oppure benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti Io sono uomo che sapeva troppo, per gli amici uomo Siamo qui per parlare di Kung Fu Panda 4 Quarto film con un titolo molto semplice Kung Fu Panda 4, niente sottotitoli, niente ritorni, niente legacy Metti subito in chiara le cose, c'è stato un 1, un 2, un 3 e questo è il 4 Che arriva dopo senza promettere probabilmente grandi cambiamenti, grandi novità Grandi cose, cose incredibili e in effetti va detto che il film non porta praticamente nulla di nuovo Né all'animazione né in grosso modo alla saga di Po, il panda, combattente dragone Pur facendo ovviamente avanzare un pochino la crescita del personaggio È dal 2016 che non vedevamo Kung Fu Panda al cinema perché il 3 risale a quel periodo Quindi quasi una decina d'anni Già nel 2010 con Kung Fu Panda 2 è già uscito e il 3 che doveva arrivare Ne parlavano, oddio, ora magari mi sto un po' confondendo Comunque insomma, già poco prima di Kung Fu Panda 3 ricordo chiaramente che Dreamworks Parlava di altri 3 film, dissero dopo questa trilogia vorremmo andare avanti e magari farli diventare 6 Un po' anche come omaggio ai vecchi film, le vecchie esalogie di arti marziali Che spesso andavano tanto in Giappone, l'idea dei 3 e 3 capitoli Insomma c'era un po' questa cosa di andare a ricercare i film classici di arti marziali Dicendo però ci prendiamo il tempo, ogni film deve essere completato per bene Non vogliamo correre, non stiamo pensando comunque a una trama da portare avanti per 6 film Ogni film è un film a sé che magari aggiunge un tassello Che è un buon modo secondo me di fare le saghe Il modo migliore per poter continuare tanti anni con tanti film È quello di fare un film alla volta che aggiunge qualcosa Senza lasciare magari aperte porte nei film precedenti Anche poi con il rischio di non poterle chiudere in caso di flop eccetera eccetera A livello di scrittura e di narrativa mi piace quando si opera in questo modo E dopo tanti anni, ripeto, quasi un decennio dal terzo Kung Fu Panda fa esattamente questo, aggiunge qualcosa in più Non farò spoiler in questa recensione Vi accenerò diciamo semplicemente l'Incipit Perché dai trailer e da un po' la campagna marketing È stato raccontato abbastanza, forse fin troppo di questo quarto film Comunque abbiamo Po che è il solito guerriero dragone Forse un po' troppo il solito guerriero dragone E che è un po' seduto, firma autografi, fa cose Insomma si gode la sua vita oramai da eroe, da star quasi Che da eroe e insomma il maestro Shifu Intima, tra virgolette, gli spiega che forse è arrivato il momento di fare un passaggio in avanti Dopo aver di fatto salvato il mondo tre volte Dopo aver ritrovato la sua famiglia, il suo originale padre Dopo aver sconfitto il male più volte Insomma è arrivato il momento di diventare il nuovo maestro Ugue Quindi insomma diciamo il nuovo dispensatore di saggezza della valle E insomma lo capite anche voi Forse Po non è molto adatto a dispensare saggezza Preferisce fare il supereroe Mettiamola così e salvare e firmare autografi con le persone Ma, e questo lo avrete già visto dai trailer Arriva questa camaleonte Questa regina del crimine Che può diventare un po' chi vuole E che addirittura vuole rubare i poteri, le arti marziali E i vecchi maestri, i vecchi nemici di Po Che già nel trailer infatti fanno una comparsata Utilizzando magari proprio il bastone che maestro Ugue aveva regalato a Po Quindi partirà questa avventura Con tra l'altro una nuova amica, Jen Che in originale tra l'altro è doppiata da Acquafina Questa volpina mezzaladra Che devo dire non mi convinceva tantissimo a livello visivo Perché mi sembrava un po' discordante Dal resto dell'universo di Kung Fu Panda Proprio a livello di tratto Invece no, devo dire che poi nel film mi ha alla fine convinto In italiano tra l'altro Torno ovviamente Fabio Volo come Po Mentre invece lei ha Alessia Mendola Quindi Zen non ha una doppiatrice famosa Fabio Volo rimane l'unico talent che porta avanti la voce Volo non è un bravo doppiatore Questo credo lo sappia anche lui stesso Devo dire che però non l'ho trovato nemmeno così malaccio Chiaramente quando si interfaccia agli altri doppiatori Su tutti Shifu doppiato da Carlo Valli Chiaramente la differenza si sente Si sente che c'è una bella differenza tra Vocalitero 2 Però, però ecco Poteva andare discretamente peggio E credo che poi di film in film oramai Poi gli sia entrato abbastanza Abbastanza dentro Forse l'ho trovato un po' più arrugginito Di Kung Fu Panda 3 Che ricordo pochissimo Io non sono un grandissimo fan della saga di Kung Fu Panda Ma chiaramente arrivava a stretto giro con gli altri Forse quasi un decennio a non doppiarlo Anche se forse c'è stata qualche spot, miniserie, spin-off In cui poi compariva anche lui Oddio veramente Io sono rimasto solo ai primi tre film Però ecco Non credo l'abbia doppiato moltissimo negli ultimi anni Quindi forse ho percepito un pochino di stanco Di dover rientrare nella ruota del doppiaggio Se dovessero arrivare dei film già nel giro di 2-3 anni Di nuovi film Magari sarà un po' più sul pezzo Niente parte questa avventura Chiaramente con lui e questa nuova compagna I due dovranno fidarsi l'uno dell'altro Anzi più lui dovrà fidarsi di lei Visto che lei comunque è una volpe un po' di nome e di razza e di fatto Di specie e di fatto Bello, carino il rapporto fra loro due Molte scene divertenti Un film dove si ride parecchio Non ho mai, diciamo, non mi sono mai sganasciato Dalle risate In sala c'era anche qualche piccolo spettatore E devo dire che comunque la sia molto divertito Quindi credo che abbia toccato le corde giuste Ripeto, è un film che Forse un po' forzato Nel senso che chiaramente arrivati al quarto film Dare ancora a Poe il ruolo di colui Che deve imparare ancora un po' di cose Diciamo dalla vita, dalle arti marziali Forse è un po' esagerato Nel senso che arrivati al quarto film Abbiamo ancora veramente un personaggio Che deve imparare e costruirsi Forse l'avrei lasciato veramente un po' più Defilato in favore di qualche altro protagonista Magari succederà Magari Kung Fu Panda 5 e 6 Ci mostreranno ulteriori evoluzioni O il suo modo di togliersi un po' di torno Chiudendo un po' il cerchio Magari arriverà un piccolo panda Magari figlierà Figlierà Chi lo sa Chi lo sa Magari tireranno fuori anche proprio Tutta un'idea di figlio Di po' da 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 tirare su No? Un po' come Prossimo eroe panda Non lo so Vediamo Mi sto veramente immaginando Delle cose per chiudere Diciamo questa eventuale esalogia Se veramente dovessero fare Sei film Il film tra l'altro è partito abbastanza bene Con gli incassi Quindi non è neanche costato troppo Quindi credo La porterà a casa abbastanza tranquillamente Lo porterà a casa tranquillamente Il box office Ci sono delle trovate visive Che ho apprezzato Chiaramente molti rimandi Come sempre alle arti marziali Sono queste pennellate di colore Che dividono lo schermo Ci sono questi sfondi molto belli Quasi acquerellati Devo dire che spesso sognavo un film Tutto fatto più in stile sfondi Che effettivamente con i personaggi Si vede che Dreamworks Ha avuto qualche problema produttivo C'è stato un taglio di metà Della casa di produzione Del personale Litigi Ingerenze produttive Sugli sceneggiatori C'è stato qualche scorno In fase di scrittura Insomma non è stato un film Facilissimo Da portare a casa E Alcuni momenti Secondo me di animazione Un po' lo sembrano di mostrarlo Nel senso che ci sono C'è molto riutilizzo Di personaggi Di character design Ci sono delle Comparse Tutte uguali Ci sono dei modelli Riutilizzati C'è un momento di inseguimento Dove veramente Tra la gente Di una città Vedevo ripetute Le stesse persone Persone per modo di dire Essendo animali Che si muovevano di spalle Ma era sempre Il solito modello Non il solito coniglietto Il solito paperotto Il solito Insomma c'è Meno unicità Di modelli E anche di scenari Per certi versi In alcuni momenti Si è deciso probabilmente Di concentrarsi Tanto sui protagonisti Perché chiaramente Sono quelli Che spiccano Quindi comprendo Che forse alcune scelte Magari sono state fatte Un po' Sia dal budget Che per via di alcuni Problemi di produzione Però è un film Che mi ha divertito Un film che Fa quello che deve fare Che appunto diverte Ha dei bei momenti D'azione Dei bei momenti Slapstick Di comicità Ha anche due o tre Insegnamenti Comunque utili Diciamo magari Ai più piccoli Quindi Non raccontano Chiaramente Magari un processo Di Diciamo Di presa di coscienza Di un personaggio Come magari Un cinema più elevato Potrebbe fare Ma è comunque Kung Fu Panda Chiaramente È indirizzato A un pubblico di famiglie E soprattutto Ai più Piccini Però può essere Anche carino Da vedere Per qualche Per qualche adulto È tutto molto standard Diciamo Anche come trama Ci sono un paio Di plot twist Super prevedibili Ce n'è uno Che ho tanato Subito Praticamente A metà film Già si capisce Cosa sta per succedere A un determinato personaggio Quindi non c'è niente Veramente di nuovo C'è anche un po' Un andare a ricercare Qualcosa di già visto Cioè Il rubare Il talento Ad altri Lottatori Non è niente Di nuovo Proprio questo tipo Poteva andare Poteva andare molto male Quando si ritorna Su un franchise Che comunque Ha portato a casa Una trilogia Onorevole Io Alla fine resto Affezionato E secondo me Quello che funziona Veramente è il primo film Già poi Il secondo e il terzo A me hanno convinto Hanno convinto Meno questo quarto Comunque Lalo Forse addirittura Mi è piaciuto di più Del terzo Andando a memoria Ripeto Le ho visti veramente Una volta sola I sequel E forse un paio di volte Il primo Quindi non state parlando Con un fan Di serie A Di Kung Fu Panda Però la porta a casa È un film che consiglio Di vedere Se siete fan Della serie Credo resterete Abbastanza soddisfatti Ripeto Non aspettatevi Grandi rivelazioni Grandi cambiamenti Anche se comunque Il finale Apre le porte Magari ha qualcosa Di interessante C'è comunque Ripeto Un passettino in più Di evoluzione Verso quello che deve Quello che la saga Ha raccontato Se non siete Grandi fan Come me Ma volete qualcosa Di carino A livello animato Di divertente Per passare Alla fine Un'oretta e mezza Tura 94 minuti Il film Un'oretta e mezza Di spensieratezza Ci sta Ci sta Non annoia Non riempie Troppo come film Ci sono un paio Di passaggi Secondo me Che avrei Veramente Velocizzato Un pochino Però probabilmente Avremmo avuto Poi veramente Un film di un'ora In quarto E per quanto A me non sarebbe Comunque dispiaciuto Capisco che a livello Produttivo Almeno arrivare All'ora e mezza Era necessario Ma non Ripeto Non vi troverete Stanchi Ci sono proprio Un paio di sequenze Per gusto mio Che avrei magari Un attimo Velocizzato Un paio di ripetizioni Che mi hanno fatto dire Ok ho capito Ma magari arriviamo Al sodo adesso Di quello che mi vuoi raccontare Però però ripeto Divertente Divertente Quindi sicuramente I più piccoli Resteranno soddisfatti Io mi sono divertito Se uscisse un Kung Fu Panda 5 Sono qua Comunque magari Non con la salivazione Azzerata Ad aspettarlo Ma Neanche mi ha fatto dire Ok basta Kung Fu Panda Ha veramente rotto Probabilmente ha detto Già tutto quello Che doveva dire Già con l'originale trilogia E addirittura Forse già Col secondo film Però se i soldi li fanno Vanno avanti E quindi insomma Devono Diciamo in qualche modo Essere obbligati Ad andare avanti Se comunque Poi tirano fuori Questi film Gradevoli Ci sta Ci sta Ci sono saghe Che sono andate avanti Molto di più Secondo me Veramente raschiando il barile L'era glaciale Ad esempio Di Fox La novererei Tra queste saghe Quindi E lì mi pare Sono arrivati a 5 6 film Ecco Kung Fu Panda Per adesso Si difende abbastanza Abbastanza bene Niente di straordinario Ma un film Molto Molto Gradevole Fatemi sapere Se l'avete visto Nei commenti Cosa ne pensate Se siete magari Grandi fan Se lo avete adorato Magari da fan Di Kung Fu Panda O se siete spettatori Diciamo più occasionali Per quanto riguarda la saga Come il sottoscritto Cosa Cosa ne pensate Ora Io amo molto l'animazione Mi piace vedere l'animazione Che sperimenta Ecco Ci sono state cose Come Across the Spider Verso Come no Veramente Dei tentativi Di cambiare le cose Questo Kung Fu Panda È super Super standard Molto lontano Dalle grandiosità Della Pixar E da tante altre cose Quindi Non aspettatevi neanche questo Se siete amanti Dell'animazione Se non un film Tutto sommato standard Che diverte Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Io vi aspetto Sempre sul mio canale Per altre recensioni Altre chiacchierate A tema fumetti Cinema Videogiochi E per le stesse chiacchiere Ma live Vi aspetto Su il mio canale Twitch Quindi venite a trovarmi Anche lì Perché facciamo tante belle dirette Dove interagisco con voi Leggo tutti i vostri commenti Le vostre domande Vi do dei consigli Commentiamo assieme le notizie I trailer Insomma Venite a trovarmi anche lì Perché ci divertiamo un sacco Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Magari anche di tutta la saga Fatemi una classifica Dei vostri film Magari io ve la lascio La mia Nei commenti E ci vediamo Al prossimo video Ciao